Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, sempre un grande tema per quanto riguarda l'evasione fiscale nel nostro paese. Anche in questi giorni si parla molto dei miliardi, dei tanti miliardi che lo Stato perde d'entrate per coloro che non pagano le tasse. Però, come da titolo, la domanda sorge spontaneo. Davvero, giusto per fare un esempio, i calabresi dovrebbero pagare le tasse quando hanno? Infrastrutture che fanno schifo, una scuola che mediamente fa schifo, la sanità che mediamente fa schifo. Cioè, francamente, di servizi decenti a disposizione dei calabresi non ce ne sono. Quindi davvero sembra una presa in giro. E ho citato la Calabria che forse è uno, purtroppo, degli esempi più tristi. Ma ce ne sono tante altre, no? Nell'Italia meridionale addirittura ci sono certe tratte dove c'è un solo binario. Dove, ad esempio, il treno deve aspettare quando arriva in stazione che passi l'altro treno per poter proseguire. E questo vuol dire percorrere, ad esempio, 100 chilometri nel triplo del tempo di quanto ci si impiega nel nord del nostro paese. Ma ci sono tantissime altre situazioni, autostrade fattiscenti o addirittura quando non ci sono le autostrade. Tutti i servizi che lo Stato dovrebbe mettere a disposizione dei cittadini nel momento in cui, appunto, pagano le tasse. E lo Stato, con le tasse, dovrebbe pagare e dovrebbe pianificare le infrastrutture, gli ospedali, dovrebbe fare iniziative per quanto riguarda la scuola. Nulla di tutto questo nel nostro paese. Allora, è di tutta evidenza che noi piano piano ci facciamo la domanda. Ma perché in questo paese bisogna pagare le tasse quando quello che viene realizzato da parte dello Stato in certe zone d'Italia è praticamente il nulla. Ora, io, per ragioni familiari, mi capita talvolta di andare in Sud America e lì ci sono situazioni un po' particolari. Nel senso che, se voi andate anche in Peru, ma la stessa cosa vi può capitare in Ecuador, in Cile, in Paraguay e così via, le strade, insomma, non sono sempre perfette, no? E anche le strutture scolastiche, ospedaliere, insomma, lasciano un po' il tempo che trovano, lasciano un po' a desiderare. C'è un però che io vi posso dire. In Peru uno paga una percentuale di tasse che è tre volte inferiore alla pressione fiscale che paga un cittadino, un lavoratore italiano. Cioè, allora voi capite che c'è qualcosa che non funziona. Perché allora sarebbe giusto dire allo Stato, tu mi lasci i soldi, io a questo punto mi arrangio, voglio dire, sia per quanto riguarda il mio futuro, sia per quanto riguarda i problemi che magari mi possono sorgere a livello di infrastrutture. Ma sentirsi dire talvolta che per fare una visita in un ospedale pubblico ci vogliono quattro mesi e questa è solo la media, capite che questo non è accettabile. Quindi si fa un ben parlare di tasse, 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 ma dall'altra parte lo Stato italiano non ha mai realizzato dei progetti validi, non ha provveduto a modernizzare il nostro paese, soprattutto se poi lo confrontiamo con certi paesi del mondo occidentale. Quindi grande tema sicuramente quella dell'evasione fiscale, grande tema quello delle tasse, ma ripeto i risultati sono talmente scadenti che sorge spontaneo farsi la domanda se realmente questo conviene. Ma poi potremmo anche parlare ad esempio dei contributi IMS che noi versiamo per la pensione. Cioè anche qui noi abbiamo le pensioni minime le più basse d'Europa e se uno dovesse farsi dei conti quanti soldi ha versato nelle casse dello Stato e quanto poi riceve durante la sua vecchiaia c'è qualcosa che non ritorna e forse sarebbe meglio lasciare tutti i soldi in tasca agli italiani. Ognuno a quel punto investe come meglio crede e probabilmente quando poi arriva all'età della pensione forse ha qualcosa in più alla casa di proprietà forse è riuscito anche a comprarsene un'altra solo se facciamo i conti di quello che versiamo nelle casse dell'Inps. Con questa considerazione io vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.